con lui devi parlare in parola, il cazzo si può dire? si può dire la verginità è un costrutto sociale non esiste la verginità le sveltine sono fantastico accade un imprevisto accade il fermiamoci facciamolo in 5 minuti all'interno di un locale marito e moglie me la pagherai sei la prima donna a cui lo facciamo fare ragazzissimo ciao a tutti benvenuti in questo nuovo episodio di Fit Cash oggi ci troviamo a Cannes in Costa Azzurra perché siamo venuti io e mia moglie Irene ad intervistare la grandissima dottoressa del sesso che abbiamo avuto il piacere di conoscere e oggi andiamo a intervistare buongiorno a tutti e benvenuti ovviamente a Cannes posso dirvi un po' a casa mia perché ci ho vissuto un po' quindi benvenuti vi è piaciuta Cannes? ci sta piacendo ci sta piacendo molto anche per noi noi per realtà era la prima volta che venivamo qua a Cannes però devo dire che è molto molto carina i francesi un po' meno si può dire? io in tre giorni ho litigato con quattro persone però io oggi ho rischiato di venire con un occhio nero perché ieri mentre si era in auto c'è il rincorso uno con l'auto ha iniziato a suonarci fortissimo e abbiamo rischiato di fare appugni ma perché hanno visto la targa italiana capito? i francesi non lo so ce l'hanno con gli italiani non ho ben capito allora non tutti penso per motivi sportivi per motivi culturali di storia probabilmente siamo sempre la testata di Zidane del 2006 non lo so forse però vi dico che sono poi conoscendoli bene sono particolari ma molto simpatici e a livello sessuale ragazzi non ve lo dico che ve lo dico a fare cioè i francesi sessualmente sanno quello che fanno allora adesso magari approfondiamo dopo questa cosa perché appunto oggi siamo qua come diceva Gianmarco con Ilenia che noi e anche lei stessa ci è soprannominata la dottoressa del sesso perché ti sei soprannominata in questo modo spiegaci un attimo chi sei e che cosa fai beh allora dovremmo scrivere righe su righe però quello di cui mi occupo è essere una specialista in riabilitazione del pavimento belvico maschile e femminile e sessuologia clinica quindi terapia comportamentali sessuali eccetera e come ti è nata la passione per tutto ciò a che età hai detto voglio far questo nella vita e come ti è nata l'idea di farlo bellissima domanda allora credo più o meno sui vent'anni nasco come ostetrica quindi prima laure in ostetricia poi proseguito con la specialistica in riabilitazione del pavimento belvico maschile e femminile non mi è bastato questo ma ho poi approfondito nell'ambito della sessuologia trovo che la formazione estera rispetto all'Italia soprattutto per quanto riguarda la sessuologia è diversa è più ampia e purtroppo in Italia ci ritroviamo questo tabù sulla sessuologia per cui ho deciso di proseguire gli studi esteri per questo motivo ok sì esatto perché ne parlavamo giusto qualche giorno fa con Ilenia io dicevo proprio che credo che l'Italia sia uno dei pochi paesi dove non viene fatta neanche educazione sessuale a scuola purtroppo no non viene proprio fatta assolutamente no pensavo che si erano un po' aggiornati negli anni invece no e invece no rispetto all'estero non si fa educazione sessuale ed è una cosa gravissima perché comunque mi ritrovo ragazzi pazienti anche di una certa età che sessualmente ne sanno veramente poco ma sia uomini che donne e questo è un problema anche per un discorso di prevenzione nei giovani assolutamente sì io mi ricordo ho fatto una vacanza a Manchester che a Manchester diciamo c'era tantissime donne giovani incinta mi ricordo io salivo sul pullman vedevi queste ragazze di 16-17 anni col passeggino col figlio e ero scioccato da questa cosa perché dice che a Manchester mi diceva il mio amico che viveva lì c'è un tasso di droghe alcol in giro nella città altissimo ci sono questi ragazzi giovani si sballano e poi rimangono tutte incinta e la maggior parte sono ragazze madri ma senza senza il padre quindi diciamo che la prevenzione penso sia importante anche per evitare di avere dei figli diciamo così è importantissima a caso è importantissima ma anche questa viene molto sottovalutata purtroppo ma e secondo te come mai in Italia cioè siamo così indietro rispetto invece all'estero cioè magari tu che comunque hai vissuto all'estero hai studiato questo all'estero hai visto magari le persone approcciarsi in maniera diversa alla sessuologia rispetto a come si approcciano in Italia no? e quindi la mia domanda è cosa in che modo si approcciano diversamente perché viene vista in maniera migliore tra virgolette rispetto all'Italia dove cioè sembra veramente essere un tabù assurdo semplicemente è una questione di tabù in Italia in Italia ancora persiste questo ma perché i nostri genitori non ne parlano figuriamoci i nostri nonni certo e non parlandone già i nostri genitori e noi stessi conosco tantissimi soggetti della nostra età che hanno figli ma non gli parlano di sessualità continuano a portare avanti questo tabù quando in realtà all'estero non è assolutamente così la sessualità si vive in maniera normale perché è la normalità ragazzi nasciamo da padre e madre che cosa fanno ci ha portato la cicogna è inutile far finta di niente è inutile non aiutare i figli i nipoti i cugini eccetera a fare prevenzione ma soprattutto a come approcciarsi non ha alcun senso certo perché poi secondo me lo sai qual è la problematica principale che cresciamo con l'idea della cicogna a me personalmente mi era stato detto che il babbo aveva messo il semino nella pancia di mamma dall'ombelico quindi io sono cresciuta con quest'idea e il problema è che poi quando arrivi al dunque rimani un attivino sconcertato perché dici ma non è come mi avevano raccontato e adesso fa ridere perché vabbè noi siamo sposati quindi insomma diciamo che siamo abbastanza aperti sull'argomento però io mi ricordo che quando ero magari più piccola e cioè era visto come un totale tabù ma ti vergognavi a parlarne di questa cosa perché era una roba cioè sporca quasi considerata no? e quando in realtà non dovrebbe essere così in realtà il sporco non c'è assolutamente nulla è puro divertimento è puro gioco è pura passione certo e che tipo di clienti vengono da te che tu lavori tramite la tua pagina instagram possiamo dirlo quindi se avete bisogno di lenio potete andare sul suo profilo instagram pazienti 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 nel mio caso sottolineiamolo perché sono borderline giusto pazienti e il tuo il tuo paziente tipo che paziente è? per gli uomini ti parlo io allora in Italia quello che prevale tantissimo prevalgono tantissimo sono la disfunzione erettile e l'ecapulazione precoce tantissimo ok perché anche su questo c'è una cattiva educazione anche rispetto alla sola masturbazione ai soli comportamenti sessuali ai soli approcci quindi portando avanti poi delle abitudini errate negli anni questi uomini si ritrovano a 30 35 40 45 50 55 con delle disfunzioni che avrebbero potuto risolvere prima o comunque attuando dei comportamenti corretti potrebbero mai non averle avute poi ovviamente ci sono i casi in cui si parla di cause funzionali ed organiche ma questa è un'altra condizione ok e quali sono gli errori più gravi che commettono secondo te riguardo alle cose che hai detto tu in generale parlando poi i casi specifici logicamente vanno analizzati l'errore più grande che si possa fare sono le masturbazioni di fretta o le sveltine ah ok perché poi prendi l'abitudine esatto le sveltine sono fantastici ok accade un imprevisto accade il fermiamoci facciamolo in 5 minuti all'interno di un locale di un bagno ok autogrill pazzia più totale del momento perché poi che abitui dici esatto la resistenza adorporia si abbassa quindi portando avanti queste abitudini di fretta è chiaro che poi sfocia tutto in una eagulazione precoce ok ok e quindi cioè tu diciamo nello specifico aiuti questo genere di pazienti no che hanno queste problematiche una poteva essere questa come dicevi o tante altre in che modo cioè com'è che fai mi allaccio alla domanda che mi avete posto prima perché ho lavorato tra virgolette negli anni raggiungendo più titoli allora per riuscire a fare quello che io faccio oggi con i miei pazienti avevo necessità di avere quei titoli perché la sola riabilitazione del pavimento pelvico non basta così come non basta il solo aspetto sessuologico quindi ho dovuto sono stata obbligata e mi ha fatto tantissimo piacere farlo perché io il mio lavoro non lo chiamo lavoro ma per me è un hobby io quando vedo i pazienti sto bene mi rianimano proprio le giornate anche se mi dicevi che lavori 30 ore al giorno è un hobby però molto impegnativo io la notte chiudo gli occhi e penso penso a quello che ho vissuto a quello che vivrò all'indomani sì io non stacco mai però devo dire che in questi giorni nonostante ti abbiamo visto lavorare tanto perché siamo stati molto insieme in questi giorni però non ti ho mai visto con la classica con il classico aspetto stressato da lavoro esaurita quindi si vede che è proprio è anche una passione non è assolutamente un lavoro è il mio xanax personale il lavoro c'è proprio un ansiolitico di quello naturale invece le donne che si rivolgono da te la maggior parte che tipo di problema hanno? la maggior parte la maggior parte sono per non provo nulla durante il rapporto o provo dolore durante il rapporto e tu riesci a risolvergli questo problema? sì assolutamente questo dipende tantissimo da ipertono o ipotono della muscolatura belvia quindi contrattura o troppa debolezza della muscolatura quindi fai tipo degli esercizi tipo una scheda di allenamento è una terapia fisica a tutti gli effetti con degli esercizi specifici che vengono prescritti da me in base alla muscolatura di partenza ok quindi tu non è che dai dei farmaci per curare queste problematiche sia per l'uomo che per la donna no nonostante dai tipo una scheda di allenamento tu sei un personal trainer del sesso no 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 il termine è sbagliato eh sì perché si va si va a valutare anche l'aspetto mentale anche sì non solo psicologico ma anche fisico ma poi c'è tutta un'anamnesi dietro cioè io lavoro molto a stretta collaborazione con urologi proctologi e ginecologi quindi prima li mando tra virgolette da loro a escludere qualsiasi causa funzionale organica dopodiché c'è la mia anamnesi ok quindi c'è una collaborazione anche con la di protezionisti questo è uno dei motivi per la quale ho spesso tra virgolette battibecchi con i miei pazienti vengono da me e mi dicono perché devo fare la visita urologica alt prima di iniziare qualsiasi percorso con me tu devi fare la visita urologico proctologica o ginecologica perché dobbiamo andare ad escludere tutte le cause funzionali e organiche perché nel caso di patologia io mi devo muovere in un determinato modo e devo entrare in collaborazione anche con il collega certo non esiste muoversi in altro modo ok certo perché altrimenti tutto ciò che fai diventa inutile anche perché magari vai in una direzione che è sbagliata perché non si sarà no non esiste alla base diciamo se ci sta qualche altra problematica no certo anche perché la risposta muscolare sarà certamente diversa in caso di patologia e lì si parla di percentuale di risoluzione perché se di base è una patologia che comunque non si può curare con il farmaco lì si parla di percentuale di risoluzione del problema certo certo e la mia domanda è come diciamo si arriva ad avere una problematica del pavimento pelvico cioè come fa una persona a diventare ipotono ipertono cioè è una questione di genetica tra virgolette oppure per abitudini sbagliate e nel caso che tipologia di abitudini se si può dire bellissima domanda allora le cause possono essere tantissime dovrei risalire a quando si è piccoli tipo fai bene la cacca fai bene la pipì le tue abitudini giornaliere quali sono che sport fai che sport hai fatto come lo fai cioè dovrei proprio risalire a tutto insieme di cose anche lo sport soprattutto quelli ad alto impatto possono generare delle disfunzioni sia nell'uomo che nella donna assolutamente sì ad alto impatto di disfunzioni sia a livello sessuale che urinario che defecatorio assolutamente sì gli sport di alto impatto soprattutto sono quelli dove si fa più fatica o per esempio un pallavolo durante la schiacciata si schiaccia verso il basso ok ok ho il basket ho comunque tutto ciò che comprende salti pesi che problematica può avere la persona che pratica quello possono essere diverse quella più gettonata è sicuramente un'incontinenza urinaria da stress quindi la sforzo o incontinenza ai gas o a feci nei gas proprio più importanti e disfunzioni sessuali e gli ovulazioni pericolose disfunzione erettile cavo ma secondo te sono problematiche che cioè si ritrovano poi in edà avanzata o anche da giovani cioè chi ha questa tipologia di problematiche è un tuo paziente di età nostra quindi sui 30 anni o è magari sui 50 60 che quindi già diciamo un fattore età anche di mezzo e che quindi allora dipende tantissimo da quali sport ha effettuato e come li ha effettuati ok un soggetto che per esempio fa bodybuilding per tantissimi anni io non faccio bodybuilding lui fa bodybuilding ma non ha nessun problema io sono sarissio sono sarissio poi c'è un contatto tuo un soggetto che va a svolgere degli sport per tanto tempo ad alto impatto purtroppo non effettuandoli in maniera corretta nel tempo va a causarsi queste disfunzioni possono avvenire si possono presentare a 30 40 50 difficilmente però mi viene un paziente di 50 anni e mi dice ce l'ho da ieri mi dice ce l'ho da anni sto venendo da lei oggi ok quindi anche anche questo aspetto ok in Italia si aspetta di arrivare al limite dello star male soffrire eccetera prima di andare da un professionista esatto prima di andare da uno specialista quindi tu consigli di venire da te subito dopo aver avuto delle piccole campanelle d'allarme esatto il primo campanello d'allarme bisogna subito risolvere la problematica ok in genere dopo sei mesi che si riscontra quella problematica ok è inutile far finta di niente perché il far finta di niente porta poi a peggioramenti quindi perché arrivare ad un punto in cui poi si inizia a star male anche psicologicamente perché poi ovviamente il disagio va ad impattare anche a livello psicologico certo parlando di sport che comunque noi siamo fit cash quindi un po' di fit bisogna che lo tiro fuori ieri mi raccontavi il discorso della virginità delle donne che la maggior parte delle donne perdono la virginità con lo sport spiega meglio questa cosa per chi non la sa che anch'io ieri quando me l'hai detta sono rimasto male perché non la sapevo Irene la sapevi? no io l'ho sentita non so davvero quando mi fanno di questa cosa ma sei rimasto un attimo quindi questa è una cosa che è interessante perché io non lo sapevo come Irene non lo sa io mi sono parto a sport a sei anni quindi non mi dite che non sono più vergine da quando ho sei anni così divento anche da quattro raccontaci questa cosa che mi hai detto ieri allora la virginità è un costrutto sociale non esiste la virginità la ragazza la bambina la perde sin da quando è veramente molto piccola lo sport può incidere o l'utilizzo del tampax ma non esiste al primo rapporto perdo la virginità no ragazzi e perché e perché perdo la virginità facendo sport spiegami quel discorso beh lo stretching lo stretching incide tantissimo allora l'imene è una membrana ognuno di noi ha donna ognuno di noi donna ha una membrana differente può essere più o meno spessa ma questa membrana nasce come una copertura protezione della vagina ok ok ma verso i tre esatto verso i tre anni quattro anni si inizia a sfaldare poi con lo sport facendo stretching guidazione danza eccetera le spaccate assolutamente va via va via quindi quando va via quello tu non sei più vergine assolutamente no e perché quando hanno il primo rapporto le donne hanno il sanguinamento se non hanno più io per esempio non ce l'ho avuta io neanche quindi potrebbe essere come se potevo quindi l'avete già persa che me l'avevi spiegato anche questa cosa allora il sanguinamento avviene perché la donna al primo rapporto si sa è impaurita insicura non sa cosa andrà incontro possibilmente chi ha di fronte anche la sua prima esperienza con la donna quindi non sa neanche lui come muoversi e come dare aiuto entra in una situazione di forte stress contrattura della muscolatura ma quando vai a contrare la muscolatura del tuo corpo quindi ansia, stress timore sei più rigido sei più rigido quindi vai ad irrigidire anche quella che è la muscolatura interna vaginale di conseguenza il membro entrando va a causare delle piccole micro lacerazioni che portano al sanguinamento quindi si pensa che mi ha sverginata no ti ha solo stressato i tessuti all'interno ok se tu fossi stata più rilassata questo non sarebbe successo ok ma andiamo a divarciare in quello anche qui come lo andiamo a spiegare alle ragazze dietando a scuola di fare educazione sessuale esatto esatto sono cose basilari che tutti dovrebbero sapere a quell'età assolutamente sì ma tu pensa che ci sono voi pensate che ci sono donne a 40 anni 45 che non sanno l'abc dei preliminari l'abc non sanno utilizzare un vibratore non sanno utilizzare dei sex toys non sanno utilizzare nulla che riguardi il sesso non hanno quella perché è tabù perché nessuno ne parla nessuno gli indica cosa fare quando poi è la cosa più bella e naturale del mondo però la si vive così e tu insegni anche questo genere di cose alle pazienti o ai pazienti che sì ovviamente quando mi viene richiesto sì assolutamente è una cosa che mi deve essere richiesta perché altrimenti vado a trattare solo quelle che sono le problematiche però sì certo se te lo chiedono in consulenza tu logicamente sì inizio a dare indicazioni eccetera mi capita anche che mi scrivono dei pazienti doc stasera mi vedo con Antizia mi indichi tu cosa fare assolutamente sì allora iniziamo a progettare robe però sai preferisco questo genere di uomini questo genere di donne sì sì di mentalità più aperta esatto abbassano quelle che sono le loro paure eccetera tabù e chiedono anche perché poi sono cose che ti ritroverai nella vita certo certo mentre pazienti pazienti non allievi pazienti perché ci devo pensare io tra clienti allievi pazienti pazienti sportivi la maggior parte degli uomini sportivi che sport fanno quelli che vengono da te bodybuilder no 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 palestra e che tipo di problemi hanno quelli che fanno palestra eiaculazione precoce disfunzione erettile dolore pelvico cronico e pensi che sia dovuto all'attività fisica che gli riporta questi problemi non solo perché poi ogni volta che vado a fare l'anamnesi mi trovo tutta una serie di abitudini giornaliere errate dimmene un paio per curiosità come detto prima non sanno defecare non sanno c'è una modalità c'è una modalità assolutamente sì ragazzi possiamo spiegare la modalità della cacca per favore allora ditemi perché mi sembra abbastanza lo utilizzate come sgabellino sotto i piedi allora io una volta ci ho provato perché ho passato dei momenti dove proprio era dura la situazione e avevo trovato questo non mi ricordo sarà un video un reel una roba del genere che diceva che con questo sgabellino aiutava me l'avevi condiviso anche a me effettivamente ti dirò che magari un po' più di aiuto lo dà però non è un'abitudine diciamo consolidata se tu iniziasse ad utilizzarlo ogni giorno vedrai che già dal settimo giorno non ne potresti più fare a meno e non ne potrai più fare a meno e lo cercherai il famoso sgabellino che va a svuotare va a svuotare totalmente l'ampolla rettale ok 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 io sono casi sto già pensando dove a usciare lo sgabellino poi un'altra cosa ma tu la fai in piedi o seduto io la faccio in piedi no ragazzo la faccio in seduto assolutamente sì perché perché vai a rilassare la muscolatura belbica belbica manco la capisci hai visto e se inizio a farlo da seduto che beneficio rilassi la muscolatura belbica anche a livello della prostata è molto meglio sì perché non vai a stressarla sì ok chiaramente se in posti non sicuri a livello di igiene fallo i piedi sei fortunatissimo esatto esatto mi dicevi sempre ieri anche questa cosa era interessante degli uomini che hai la possibilità con un metodo di farlo di diventare più lungo no aspetta no che alcuni uomini ce l'hanno nascosto ah sì il pene nascosto ecco esatto sì non che glielo fai cresce però loro ce l'hanno nascosto la visione diciamo l'attuale sembra più esatto il famoso pene nascosto sì spiega questa cosa che mi ha incuriosito quando l'hai detta perché presentano sono degli uomini chiaramente obesi e presentano questo grasso pubico obesio o sovrappeso secondo te entrambi entrambi ok presentando il grasso pubico chiaramente vanno a coprire quello che è il membro ok quindi quando vanno a perdere peso perdendolo anche in quelle parti in quelle zone è chiaro che gli sembra di dottoressa mi è cresciuto il pene no non ti è cresciuto il pene ragazzi la crescita del pene si ferma ai 21 anni in realtà il grasso accumulato in quella zona che te lo mangia è solo una questione ottica visita incredibile però in tanti non lo sanno si si in tanti non lo sanno quindi vi invito a venire da me e rimettervi a diare assolutamente ci devi pensare attività fisica e diare assolutamente si e che potresti avere più lungo se fai ma possiamo dire così diciamola diciamola come scoprire il tuo cane ok tutte cose molto interessanti ma parlando appunto della riabilitazione del pavimento pelvico perché io sono molto interessata a quell'aspetto là secondo te cioè in che modo la riabilitazione e quindi una miglior sessualità può impattare proprio nella vita di tutti i giorni tantissimo allora secondo me non gli si dà neanche troppo peso no che uno dice si vabbè ma io ho il marito sto a posto mi piace quello che facciamo e magari non gli dà troppa importanza cioè secondo me quando non c'è una situazione grave magari non si va a ricercare l'aiuto perché non si pensa di poter migliorare no un po' come quando anche magari tante persone si rivolgono a noi la maggior parte delle persone che si rivolgono a noi perché vogliono rimettersi in forma è perché sono ad un momento della loro vita in cui si fanno letteralmente schifo guardandosi allo specchio difficilmente arrivano da me donne o da lui uomini che magari vogliono perdere un chiletto o risistemare o avere un miglior stile di vita cioè la maggior parte sono mi faccio schifo allo specchio ti prego aiutami perché non mi posso più guardare e io penso che quelli che arrivino da te poi magari mi sbaglio non sono tanto magari per esaltare le performance ma più per andare a riparare un disastro che c'è in corso o mi sbaglio assolutamente sì arrivano quelle parli delle donne mi hai fatto la domanda rivolta alle donne sì in generale gli uomini le donne perché comunque la riabilitazione del pavimento per l'uomo gli uomini hanno una visione diversa della sessualità nel senso che non tutti sono veramente così inesperti le donne però italiane sono veramente non sanno veramente tantissimo della sessualità quindi rispetto all'uomo sono tre quattro passi indietro e la sessualità comunque andando a lavorare sulla muscolatura pelvica migliora tantissimo hai mai sentito parlare del bacio di Singapore? no no io che tu no praticamente la donna avendo il membro inserito all'interno della vagina no? il membro il membro il fallo il pene quanti sinonimi vuoi? con lui devi parlare imparare il cazzo si può dire si può dire ok però però io sono sempre elegantina tu sei pacata lo sappiamo il membro mi piace di più perché è professionale ok avendo il membro inserito all'interno del canale vaginale puoi letteralmente mandare su in paradiso tra gli angeli il tuo caro marito andando ad utilizzare proprio la muscolatura pelvica cioè dando delle contrazioni rilassamento e praticamente vi devo spiegare cosa succede al pene mentre tu fai contrazione rilassamento ok penso possiamo osservare esatto se non lo spieghiamo non so qualcuno secondo me ne avrebbe bisogno comunque comunque c'è la sezione commenti e tu li rispondi esatto e per l'uomo è una cosa piacevolissima ma quante donne in Italia riescono a fare il bacio di Singapore le possiamo contare forse liamo a cento sono troppe perché non hanno una muscolatura pelvica allenata erano tutte pazienti tuoi avevano le cento lì potarsi sono ben istruite ok ok e scusami dicevamo appunto prima tu dicevi che gli uomini sono un attimino più aggiornati rispetto alle donne rispetto alle donne ma secondo te è dovuto da che cosa cioè a me la prima cosa che mi viene da pensare è dal fatto che magari gli uomini sono più abituati e hanno meno tabù nel fatto di guardare porno e quindi magari imparano qualcosa in più rispetto alle donne può essere sono più curiosi sotto quell'aspetto può darsi può darsi potrei in parte essere d'accordo con te ma credo che riguarda forse anche tanto il modus operandi di vita cioè come si muovono gli uomini nella vita se una donna in Italia sono più curiosi gli uomini dici? no nel senso che l'uomo all'amante all'amica alla scopa amica alla fidanzata alla moglie ne cambia una ogni tot di tempo soprattutto quando si è molto giovani no? e l'uomo è figo è un gran figo perché fai questo la donna non può perché la donna in Italia se lo fai si è una poco di buono quindi non puoi farlo cosa fai? stai con un ragazzo per anni possibilmente neanche lo sopporti a questo ma ci stai e te ne fai fare di tutti i colori ma perché tu devi sempre mantenere quello stato di donna per bene certo che poi questo per bene vorrei capire fino a quanto si è per bene perché poi dovremmo poi aprire tutta una finestra in cui parliamo di violenza psicologica che viene fatta da parte delle donne sugli uomini cosa che in Italia anche questo anche su questo in Italia non se ne parla tantissima si parla di uomini distrutti li rendono ridicoli li umiliano tutti i giorni li fanno sentire degli uomini incapaci si è? si però se lo fa la donna si è anche in altri ambiti della quotidianità entrambi sia quotidianità che sessualità e perché trattano secondo te l'uomo in quel modo se è loro uomo secondo te perché sono delle donne frustrate quindi spogano la loro frustrazione poi in famiglia e di questo in Italia non se ne parla si parla solo della violenza sulle donne ma quanti uomini ho in terapia che si fanno poi delle paranoie e questi uomini poi hanno problemi problemi sessuali e cosa fanno? hanno le amanti ragazzi ma è normale farsi l'amante cioè dentro casa hai una moglie che ti rompe le palle dalla mattina alla sera ma cosa volete? è ovvio cioè questo uomo io ho definito che c'è la moglie se no mi dice io non mi ho fatto niente sono sposato da un anno sono sposato da un anno ma Irene è dolcissima cosa vuoi dire a Irene? però non posso annuire ah hai ragione hai ragione hai ragione mi arriva uno schiaffo là dietro non so se eri tu che l'altro giorno mi hai chiesto ma quindi in casa cucini tu? pensavo cucinassi Gianmarco chi è che me l'ha detto? non so se eri tu eri tu che me l'hai detto no? vedi? ma Gianmarco sa cucinare io ho detto si sa cucinare però è un pochino aviziato quando non c'è la Filippina siamo a Dubai mi tocca cucinare io guido la macchina porto fuori il cane ho delle manzioni diverse no vabbè dai ci dividiamo le manzioni diciamo la verità ecco non siamo sono un bravo marito ma ho altre manzioni dai volevo chiederti come aspetta che questa me l'avevo segnata la sessuologia come influisce secondo te nella vita di un imprenditore a livello lavorativo a livello di mindset di produttività moltissimo in maniera positiva e altrettanto negativa nel senso tratto in terapia tantissimi imprenditori imprenditori di un certo livello ok e purtroppo vivendo male la loro sessualità tutto ciò prova di inficciare tantissimo anche sull'aspetto lavorativo ok perché presentano delle discussioni importanti perché non sono liberi di uscire una sera e avere un'avventura perché provano vergogna perché arrivati a letto hanno una durata di meno dei due minuti meno di un minuto non arrivano neanche alla penetrazione tante volte e per loro è un grande disagio della serie buttiamola qui sul tavolo soldi vita a 5 stelle lavoro a 5 stelle soddisfazioni lavorative eccetera però però certo però ti manca quella fattore di uomo alfa esatto che è magari anche superiore al fatto di avere un business però poi hai la moglie super straordinaria bellissima affascinante e sessualmente non state bene o sei un uomo single di 50 e passa anni sei ancora molto prestante ma 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 ti freni perché hai magari delle paranoie eccetera ma non non vai poi a letto con una donna che conosci quella sera per cui o ti rinchiudi in casa o eviti questo genere di serate o ad un certo punto per paura non le fai proseguire e tutto questo te lo riporta anche nella tua vita lavorativa che c'hai la paura di abbassare le aspettative che uno arriva poi figuriamoci le donne siamo molto sappiamo essere anche un po' cattivelle delle volte diciamola la vita è sicuramente l'aspetto un pochino poi molte donne sta alla maniera italiana la prima cosa che fanno qual è tornare a casa chiamare l'amica no? l'amica chiama l'amica bruttissimo bruttissimo è orribile cioè uno si fa una cattiva pubblicità sulla piazza subito è veramente questa è una cosa anche questo è tutta l'italiana la donna che spettegura le cose private di un uomo quindi uno si riesce a risolvere queste problematiche dopo si sente molto meglio con se stesso è chiaro più produttivo a livello lavorativo va a mille ok più sicurezza di te stesso da quel punto di vista poi diventa anche sicurezza nel business assolutamente sì lavoro organizzazione dipendenti ma perché hai proprio uno stato psico-fisico diverso quindi affronti tutto con voglia fame fare quindi anche a livello mentale diciamo hai a livello mentale soprattutto hai una crescita certo ma ha un impatto veramente molto molto alto ok ok certo interessante e io a questo punto c'è una cosa che vorrei chiedere visto che abbiamo parlato di durata dei rapporti di questi poveri cristi che durano due minuti che tu da dottoressa del zesso ci dici la durata la durata secondo te è media corretta di un rapporto ok perché allora io posso dire la mia allora per me ci sono gli sboroni che dicono che durano quattro ore che vabbè allontaniamoli no sai cosa lì si tratta di eiaculazione ritardata a meno che non siano loro che è una patologia che è una disfunzione anche questa a meno che non siano loro a voler posticipare volontariamente l'eiaculazione ma difficilmente quattro ore è un po' too much ragazzi no no quattro ore no quindi dai dacci una durata secondo te che uno si può sentire soddisfatto e può non aver bisogno diciamo del tuo aiuto posso dire che adesso secondo me cadranno le lascia qualcuno che guarda dirà e quindi io sono nel giusto oppure dentro la media fuori dalla media allora vi do la definizione medica ok allora si definisce eiaculazione precoce quando si ha una durata inferiore ai due minuti o comunque non si riesce a gestire il proprio riflesso eiaculatorio ok questa è la definizione medica poi è chiaro che un uomo dice quindi se ha una durata di quattro minuti cinque minuti sei minuti sono ok io dico sempre dipende dipende da come vuoi vivere tu la tua sessualità dalla durata prestazionale anche della tua partner ma punto di domanda lo sai controllare il tuo riflesso eiaculatorio oppure non appena arriva lo stimolo vicino all'eiaculazione non sai più che pesci prendere dove arrampicarti e per forza devi raggiungere l'eiaculazione e ragazzi sfatiamo questo mito sfatiamo non ci sono situazioni in cui pur di posticipare l'eiaculazione pensi alla nonna in barella allo zio che lavora sotto i campi a qualsiasi dolore della tua vita o cambi posizioni repentini questo non significa saper controllare pensa al momento più brutto della tua vita esatto anche perché secondo me lì si rischia l'effetto contrario la caduta non si parla del controllo del riflesso eiaculatore si chiama semplicemente prendere tempo o non risolvere nulla non darti aiuto quindi non è questo il controllo del riflesso eiaculatore ci sono delle tecniche ben precise per fare ciò ma non è pensare alla cosa peggiore della tua vita in quel momento ok l'esatto opposto che sono gli attori porno hai mai avuto a che fare con attori che sono venuti da te assolutamente sì e un attore che si rivolge a te che cosa ti chiede che cosa vuole semplicemente no no semplicemente no ovviamente non ha problematiche legate alla sessualità legate alle disfunzioni assolutamente no perché prima di venire da me è stato controllato ricontrollato da urologi angrologi eccetera sono sono controllati così tanto assolutamente sì sono super controllati loro sotto ogni aspetto fisico psicologico per cui vengono da me solo per mantenere allenata la muscolatura quindi io in generale loro li vedo una volta ogni 5-6 mesi e andiamo ad impostare la terapia in base ai set che dovranno girare in genere è quello poi c'è il lavoro di mantenimento quando per un periodo non devono girare la muscolatura a che cosa li serve per migliorare la prestazione assolutamente non è facile mantenere l'erezione sempre nel senso loro hanno delle ore in cui girano le scene ok e può capitare perché sono esseri umani anche loro ok nonostante siano molto prestanti eccetera ma può capitare che durante il set hai un attimo di pene non così in erezione ok ti vai a distrarre un attimo può succedere andando ad attivare la muscolatura in un determinato modo quindi con delle tecniche ben precise vai a rinvigorire quella che è l'erezione in quel momento quindi non hai il bisogno di perdere un attimino la concentrazione se capita sai cosa devi fare immediatamente per cui lo fai perché uno nell'immaginario pensa vabbè gli attori porno si prendono le peggio pasticche le peggio robe per la prestazione alcuni sì altri no altri pochissimo dipende sempre quanto dura quella scena in quanto tempo si deve girare è chiaro che se sono giornate su giornate ore su ore magari un piccolo piccolo aiuto ne hanno bisogno lo usano ma anche lì di fronte alla distrazione la distrazione c'è certo però tu dici che con questo allenamento del pavimento pelvico comunque le prestazioni possono migliorare tanto hanno una prestazione diversa hanno una muscolatura diversa è chiaro che sia così ma voi immaginate il pavimento pelvico come un'amaca all'interno di questa amaca ci sono tutti gli organi genitali sia maschili che femminili ora se questa muscolatura è in ipotono quindi debole tutta la fascia del pavimento pelvico fa questo quindi tutti i genitali che sono contenuti all'interno non fanno questo lavoro ma questo cioè la muscolatura è lassa come fa a lavorare? è chiaro che va a causare disfunzioni caso contrario ipertono quindi contrattura questa amaca da questa posizione sarà in questo modo e non avrà più elasticità quindi va a causare disfunzioni ora all'interno ci sono tutti gli organi genitali che servono per a livello urinario defecatorio e sessuale è chiaro che poi insorgono le disfunzioni se questa muscolatura fasci legamenti muscoli perché questo è il pavimento noi diciamo pavimento pelvico si racchiudono poi tutta una serie di legamenti fasce e muscoli ovviamente se lui non è il normotono è chiaro che poi subentrano tutte le disfunzioni ok e scusami cioè la differenza diciamo delle disfunzioni che si creano tra ipertono e ipotono cioè sono disfunzioni diverse o potrebbero essere anche la stessa disfunzione ma data su un pavimento pelvico diverso cioè voglio dire no non ho capito sul chi ha ipotono ha un tipo di disfunzioni e chi ha ipertono ha un altro tipo di disfunzioni cioè sono due cose ben distinte ed è questo che mi rende molto facile tra virgolette il mio lavoro fatto con la mia clinica online cioè innanzitutto come ho detto prima visita urologica proctologica o ginecologica in base alla situazione che mi trovo di fronte durante l'anamnesi poi il paziente mi dice io faccio tipo un'ottantina di domande ad ogni paziente all'anamnesi assolutamente sì sì sono un'ottantina cioè mi prendo mezz'ora solo per andare a fare mille domande dalle domande emergono tutte le tra virgolette segni e sintomi quindi tutte le problematiche che il paziente presenta da lì io so già il paziente che tipo di muscolatura ha tant'è che quando poi vado a fare i test muscolari che li faccio muovere determinati muscoli in un determinato modo durante la consulenza online tu lo vedi il paziente no? sì certo lo vedi nudo? no assolutamente no ma non ne ho bisogno quando io gli faccio fare i test gli dico muovi questo muscolo piuttosto che quest'altro escludimi l'altro escludimi quello giù la laterale eccetera io dico mi dai conferma che questo muscolo ha questa resistenza? sì mi dai conferma che l'altro muscolo ha questa resistenza? sì e questo lo fai tutto online? tutto online in videochiamata? cioè io non vado a chiedere loro la tua resistenza qual è no sono io che ti dico qual è la tua resistenza qual è la tua forza eccetera perché quello che fa capire è la è l'anamnesi sono segni e sintomi uno specialista in gamba sa farlo poi ci sono quelli che dicono ma come fai a fare le consulenze online? non hai bisogno di visitarlo? no perché basta semplicemente ascoltare il paziente esatto e in base a quello già lo capisci anche perché mi ha aiutato tantissimo urologo, protologo e ginecologo è come noi facciamo con il nostro servizio di dieta e allenamento a volte ci dice ma come fate a farlo online? come faccio? io vedo le foto non è che mi ci vuole l'analisi della via per vedere se uno è sovrappeso poi ci parli col cliente di fare mille domande a parte le domande ma già dalle foto come poi non vederò una situazione estetica a cui si sta parlando in che stato voglio dire se uno è obeso non è che mi serve la via per valutarlo esatto ma poi basta fargli prendere credo nel vostro caso dei parametri centimetri peso foto esatto esatto le domande ormai nel 2000 a quasi 25 come fai a farlo online? ragazzi svegliatevi cioè siate un po' smart nella vita cioè questa roba all'estero si fa da oltre 15 anni però come tutto in Italia sembra siamo sempre inviati sì fortunatamente quando è arrivato il covid che tutti sono stati chiusi in casa mesi e mesi qualcuno diciamo si è svegliato da questo punto di vista dell'online e quindi si sono un po' accelerate le tempistiche se non è arrivato il covid secondo me ci voleva ancora qualche anno in più per farlo entrare nella testa delle persone sì io però volevo affrontare un attimo una cosa perché abbiamo parlato molto del tuo lavoro eccetera eccetera però in realtà io volevo parlare anche un pochino della tua vita perché ma ne hai fatti veramente tantissime perché sei stata in un sacco di posti ci racconti un po' tutti i posti dove hai vissuto perché io mi tre io non ho un posto e esce lei che mi fa sì io ci ho vissuto due anni quanti anni ha? 60 non lo so perché beh diciamo che ho una vita che va ho una vita che va a mille io vado a mille ragazzi questo è bello di lavorare online assolutamente che puoi lavorare ovunque tu ti trovi ho girato il mondo ragazzi cioè ho vissuto a Cannes ho vissuto chiaramente in Italia dove mi sposto in Italia maggiormente Roma e giardini Naxos Taormina ok dove ho metà del cuore tu sei in Adela dove è? io sono ad Taormina a Taormina ok sì sì però ormai scendo a Taormina solo per giardini Taormina solo per andare a trovare la metà del mio cuore perché altrimenti non ho il tempo e vi dico la verità la trovo tanto indietro rispetto al il resto del mondo per cui mi viene anche un po' stretta ormai e Dubai ragazzi ho finito dove ho vissuto veramente ho finito sì sì e tu mi dicevi appunto che hai iniziato come ostetrica giusto? e quanto tempo hai fatto ostetricia? ostetrica prima di no 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 non ho neanche iniziato a cercare lavoro come ostetrica ok quindi diciamo la tua mi sono laureata e subito hai fatto tanto tirocinio in ospedale perché comunque ostetrica sì quello quello come ben sai obbligatorio io ho oltre i 4500 parti quelli sono obbligatori altrimenti non puoi laurearti certo però però no ho sentito che non faceva per me non non potevo limitarmi a quello e poi c'è stata la svolta che mi ha fatto amare la sessualità prima me l'ha fatta odiare perché voi mi vedete adesso così no così aperta sulla sessualità ne parlo che però io devo dire questa cosa sei molto aperta sulla sessualità parli molto di sessualità sui tuoi profili social perché ovviamente è il tuo lavoro però sei anche molto timida perché per portarti a questo podcast io non dico ma sappiamo dovuto fare quasi le prove prima di arrivare questa mattina era come sono i capelli come sono i vestiti ma te senza tacco cosa diverti è stato bello e impegnativo quindi sì sei anche molto timida allora timida timida no non timida è che sono tanto riservata magari riservata non amo dialogare molto ecco la mia autonomia di dialogo è molto bella magari perché parli con mille persone al giorno per lavoro magari quando hai finito dici ok adesso voglio rilassarvi un po' sì ma io la sera infatti la prima cosa che faccio quando chiudo le call è silenzio cioè non accendo neanche la televisione io i miei bimbi pelosi il mio oschio il mio tibetano che avete conosciuto sì e basta basta non voglio sentire nulla silenzio relax totale e quindi insomma beh dicevi cos'è che ti ha fatto amare e odiare all'inizio questa questa allora la mia famiglia non mi ha cresciuto parlando di sessualità anzi anzi al sud penso che la famiglia del sud mio padre mio padre è zero cioè proprio mio padre penso che mi cambiava anche film dove due tizzi si baciavano lui cambiava lui perché non li dovevo vedere perché era una cosa sconcia no no mia madre ha la parola sesso e per dire la parola sesso si fermava a me da sesso come se fosse illegale così quasi illegale immorale era tutto diventava rossa di mille colori no quindi quindi da parte della mia famiglia c'è stato sempre un grande tabù poi crescendo ovviamente cosa facciamo Irene parliamo con le amiche ovvio le amiche raccontano noi ci sentiamo sempre più diverse no tra noi perché poi questo si viene a creare tra noi ragazze magari le fa una cosa ma io perché non perché io non ci riesco perché io non la riesco a fare come lei magari lei ti ha inventato una serie di balle che tu in quel momento ti bevi pensando che lei fosse l'attrice ardo del momento in realtà e a proposito di questo mi è venuta la domanda dopo te la faccio ok quindi vivevo la sessualità vi dico all'età di vent'anni dai 20 ai 24 male dai 24 ai 26 malissimo ma malissimo comunque stavi già studiando per il tuo lavoro sì ma io studiavo proprio per questo perché mi sentivo una persona piena di problematiche totalmente ignorante ok e odiavo sentirmi così tra l'altro sono una che ha sofferto di ipertono per moltissimi anni quindi ero sempre molto rigida contratta dolore al rapporto con i miei fidanzatini ragazzi mi inventavo di delle palle pur di non dargliela dico una figa di legno la classica figa di legno quella proprio che non gliela dà gliela facevo come diciamo noi non so se da voi si usa gliela facevi annusare la profumiera gliela farei annusare ma non gliela dà ecco e allora voi immaginatevi una vacanza che 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 feci con il mio ex ragazzo siamo andati in vacanza cinque giorni posto bellissimo isolato di quelli dei resort super bellissimi piscina piscina in camera ok ragazzi in cinque giorni è successo sì e no una volta e mezza le scuse erano troppo sole troppo freddo troppo caldo un mal di testa un mal di testa bravissimo non ho digerito bene poi a un certo punto vabbè la relazione con lui è finita per altri motivi che sorvoliamo però comunque era anche una relazione a distanza quindi fortunatamente non ci vediamo neanche molto sì a differenza del lavoro le relazioni a distanza io non sono una grande fan nel lavoro a distanza sì online ma le relazioni non mi fanno impazzire no perché eh vabbè noi siamo abituati che praticamente viviamo insieme da quando ci siamo conosciuti sì dopo una settimana potrei fare diversamente cioè per me ho tutto o niente dopo una settimana già vivevo da te sì non abbiamo molti piedi di mezzo quindi se non sono grandi fan beh le relazioni a distanza hanno i suoi pros e i suoi contro nel senso le relazioni questo genere di relazioni portano o alla rottura definitiva o ad un'unione che nessuno romperà mai però l'unione che nessuno romperà mai è veramente difficile in genere porta a rottura secondo me dipende un po' anche dalla persona ecco dai bisogni che hai io per esempio sono una persona a cui non piace stare sola isolata quindi hai bisogno del contatto bisogno del contatto della presenza esatto mentre magari ha tante amiche che invece stanno bene anche da sole o anzi si vogliono prendere quei momenti da sole per stare da sole per me non esiste quindi io cioè andrei fuori di testa completamente come una cosa del genere io ormai sono segnato ma voi siete straordinari no no davvero li ho vissuti assolutamente siete fantastici coppia straordinaria bene ok tu hai qualche altra domanda io direi che io chiuderei con una domanda che poi c'è da fare anche la chiusura perché lei lei non so lei non ha ancora visto gli episodi del podcast perché non è ancora online nel podcast ma ogni ospite deve partecipare a una piccola sfida finale prima della chiusura del podcast aiuto di cui non ti abbiamo parlato no ragazzi a me le sorprese non piacciono è una roba molto semplice è una roba molto semplice però io vorrei chiudere questo podcast facendo una domanda che interesserà tutte le donne ma forse anche gli uomini che hanno sempre questo dubbio non mi chiedere come mi comporto ad oggi con un uomo no no ok no no non te l'avrei chiesto grazie grazie è una domanda fatta alla dottoressa del sesso ok ok non hai ilenia ok ok allora mi rilasso la domanda è squirting delle donne wow sì no perché alcune sì perché alcune no aiuto allora posso ti posso rigirare la domanda no non mi chiedere se io faccio perché non rispondo dai però era simpatico mi intervisto io era simpatico rimaniamo nel dubbio allora non tutte le donne riescono a farlo circa il 40% perché alcune non predisposte anatomicamente ok quindi anche fisiologicamente non riescono a farlo però la maggior parte potrebbero farlo perché non lo fanno perché ad un certo punto quando sono lì lì per provare quel piacere proprio di wow non fanno altro che irrigidirsi perché sentono di perdere di iniziare a perdere qualcosa ok quindi si irrigidiscono e vanno a bloccare il famosissimo squirting quindi sono loro che non rilassandosi se lo vanno a bloccare ma e secondo te dipende anche dal pavimento pelvico? no non c'entra niente non è che dici tipo è un ipertono no 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 non riescono perché ad un certo punto più bello in cui si dovrebbero proprio lasciare andare al paradiso niente si bloccano non fatelo non bloccatevi dopo questo podcast adesso saranno tutte ingarzullite ingarzullite come si dice in Toscana ok ok grazie per essere stata qui con noi grazie a voi adesso andiamo a fare questa prova micro sfida micro sfida oddio e ci sarà una classifica con tutti gli ospiti che partecipano a questa bene a questo piccolo test allora io direi di farla mettere guarda proprio qua così non dobbiamo neanche spostare la camera no però va chiamato il videomaker perché devo inquadrarla che devo fare è una roba piccola io di usi cioè chiamo il videomaker no ragazzi che devo fare allora puoi scegliere tra due esercizi e facciamo una classifica degli ospiti esercizi fisici sì ma sono cavolati una è la seggiolina al muro ti siedi al muro con le gambe che comunque sono in tiro ora ti faccio vedere come si fa l'esercizio oppure i piegamenti sulle braccia le famose flessioni oddio andiamo a cronometrare cronometriamo ragazzi io resterò bloccata per due giorni dopo questo vediamo se hai il pavimento perdito ma che c'è zecchio 3 2 1 vai ferma lì eh un pochino più giù Gianmarco ferma lì io sono reduce di una lezione di yoga di un'ora e mezza eh mamma mia yoga allora sei a 10 secondi io mi sto buttando a terra te lo dico vediamo quanto resisti no mani lungo i fianchi no dai che questo lo facciamo fare a tutti gli ospiti marito e moglie me la pagherai sei la prima donna a cui lo facciamo fare ragazzi sto morendo lungo i fianchi le lacriche è proprio maio lo dico peggio degli uomini che vengono lasse 32 secondi che è mai capitato dai ragazzi non ci scherzate no i miei pazienti non si toccano ragioni ragioni